Ciao e benvenuto, siamo all'inaugurazione della nuova palestra a Milano, in via Pellegrino Rossi e ci aspetta una lunga tornata di nuove inaugurazioni, ne faremo otto nei prossimi 30 giorni. E questo ci porterà ad essere uno dei gruppi leader in Italia, quali già siamo ma probabilmente il primo gruppo come attività di palestra, come numero di insediamento di attività di palestra in Italia. Quello che ci muove è sicuramente la nostra vision aziendale, la passione per il quale facciamo questo lavoro tutti i giorni. Coloro che fanno parte del nostro mondo hanno ben in mente una cosa sola, la felicità delle persone che vengono da noi. A un 200 metri, 300 metri da Piazzale Maciacchini, una zona nevralgica del lavoro e della vita milanese ed è qui che questi milanesi potranno spendere un'ora, un'ora e mezza del loro tempo, del loro tempo libero in maniera armoniosa, felice e allegra. Avranno soprattutto delle persone che l'aspettano con dei sorrisi qua da noi. Grazie a tutti!